I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso al tribunale, sezione misure di prevenzione, con il quale, con sentenza della Corte di Cassazione, è stata dichiarata irrevocabile la confisca di primo grado emessa nel febbraio del 2022 e pertanto il patrimonio riconducibile agli eredi e da venti causa di Mario Marchese, morto nel 2016, è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Marchese, già condannato nel maxiprocesso a Cosa Nostra, recentemente era tornato ad assumere un ruolo direttivo all'interno del mandamento mafioso di Villa Grazia, Santa Maria di Gesù, così come emerso dall'ordinanza cautelare del Tribunale di Palermo dell'11 marzo del 2016, emessa poco prima del suo decesso. Il quadro probatorio raccolto nell'ambito delle indagini patrimoniali, coordinate dalla locale procura della Repubblica, è stato in grado di dimostrare come i beni nella disponibilità da prima dello stesso Marchese e successivamente dei suoi eredi fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite, consentendo al Tribunale di Palermo di emettere l'odierno provvedimento di confisca irrevocabile di due abitazioni in zona Villa Grazia e di un'impresa individuale a Palermo con attività di distribuzione carburanti e del relativo complesso dei beni aziendali. Il valore ammonta a circa un milione di euro.